Nell'epoca dei telefonini e dei social network la nostra mente è in continuo sovraccarico, così perde capacità di attenzione, di concentrazione e di elaborazione cognitiva. Al teatro area nord di Piscinola sabato 2 e domenica 3 arriva Overload, il lavoro della compagnia toscana sotterraneo recentemente insignito del premio Ubu 2018 come miglior spettacolo dell'anno. Basato su una conferenza dello scrittore David Foster Wallace, lo spettacolo sovrappone la riflessione e la risata ad un elevato ritmo performativo. A Sala Icos, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, serata unica venerdì 1 febbraio, col Mare Sagalli Trio, per un viaggio nel jazz elegante di Gershwin, Ellington, Jobim e Carmichael, rivisitati con sonorità originali. La relazione erotica e intellettuale che legò il poeta sovietico Vladimir Majakovsky alla scrittrice Lilia Brick e a suo marito Osip, rivive al nuovo Teatro Sanità nello spettacolo L'amore è il cuore di tutte le cose, in scena dal 1 al 3 febbraio con la compagnia Kill della Balanza. Il Teatro Area Nord, Sala Icos e il nuovo Teatro Sanità potranno essere raggiunti col Polibus, la navetta gratuita del comune di Napoli disponibile su prenotazione.